Ben trovati in questa nuova puntata di Zona Blu. Parliamo di presente perché il presente è il nostro futuro e lo stile di vita che noi abbiamo nel nostro quotidiano sarà veramente la risposta di un presente che guarda il futuro. E quest'oggi affronteremo questo tema tanto importante con il dottor Giorgio Terziani, visit professor in discipline del benessere della San Giorgio School di Brescia e consulente marketing e formazione. Buonasera a tutti. Buonasera dottore e abbiamo anche il privilegio di avere come ospite fortemente voluto dal dottor Terziani il dottor Bartolomeo Allegrini, medico chirurgo esperto in medicina sistemica. Buonasera. Oggi parliamo di un argomento che a me sta particolarmente a cuore perché il cibo e lo stile di vita sono quelle due caratteristiche fondamentali, quei due ingredienti che guardano al nostro benessere. Dottor Terziani, che cos'è l'epigenetica? Potremmo definire l'epigenetica il software della vita, cioè sono tutti quei fattori che possono programmare o sprogrammare le nostre cellule se noi pensiamo che, amo dire che il DNA non è il nostro destino e quindi dal 2 al 10% è responsabile il DNA, ma per il resto è tutto epigenetica. Quindi il software della vita. E cosa possiamo considerare? Tutto quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo, pensiamo, l'ambiente in cui viviamo. Pochissimo si parla di quanto l'impatto ambientale possa veramente avere un ruolo fondamentale nel condizionare la salute delle persone. Basta pensare ai metalli pesanti, basta pensare ai cibi contaminati. Ora, tutto questo è una rivoluzione nel mondo della salute e del benessere. Perché? Perché l'epigenetica programma o sprogramma la vita soprattutto prima del concepimento anche. e quindi noi dovremmo pensare di lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Questa è la vera prevenzione. Lavorare sulla salute delle nostre cellule. Questa è, alla fine, l'epigenetica. Cioè proprio il software della vita. Ma quindi, dottore, noi possiamo affermare che se le nostre cellule sono sane, il nostro corpo è sano? Assolutamente sì. Ne parleremo poi anche di ossigenazione nella prossima puntata. perché noi dovremmo partire dal presupposto che il nostro corpo, il nostro organismo è fatto di cellule. Siamo oltre 100 mila miliardi di cellule. E perché si parla solo di apparati, di sistemi, si parla di organi? Dovremmo incominciare a parlare di salute cellulare. Le nostre cellule sono il motore della vita, producono energia grazie ai mitocondri. I mitocondri, come sappiamo, lo vedremo poi, hanno bisogno di ossigeno, hanno bisogno di idrogeno. Ma questo da dove si prendono questi elementi? Da quello che noi mangiamo e quello che noi respiriamo. Ecco, quindi la cosa che dovremmo fare è stare attenti a controllare l'infiammazione. Per esempio la terrosclerosi è una malattia epigenetica. Noi mangiamo per produrre idrogeno. Questa è una slide importante dove si parla proprio del DNA non è il tuo destino e tutte le scelte che farai in gravidanza condizioneranno la salute delle future generazioni. Il Times, già nel 2010, è uscito con la copertina. Proprio tutte le scelte che faranno i tuoi genitori influenzeranno la salute delle future generazioni. E non solo, quello che farai in gravidanza. Ora noi scopriamo che il fumo fa male, è veleno, sì o no, Irene? Sì, assolutamente. Assolutamente sì. E perché uno, se questo, ormai è una cosa importante, smette di fumare magari quando scopre di essere stato interessante? Hai già fatto dei danni importantissimi perché voi pensate a quello che succede nelle terre dei fuochi, no? Lì è proprio, abbiamo oltre 200 terre dei fuochi in Italia, Irene, e pochissimi lo sanno, oltre 200 da bonificare, ma conosciute. Pensa a quelle che non conosciamo, da bonificare. 98.000 siti di amianto, oltre 6.000 morti solo di danni da amianto, da bonificare. E quindi abbiamo ancora tutto questo. Voi pensate che nella terra dei fuochi, basta pensare nella terra, basta pensare alla terra dei fuochi non solo a Napoli, ma basta pensare a Bergamo, Brescia, Taranto. Cosa vediamo? Vediamo che i bambini nascono sempre più malati, anche nelle città più inquinate. Noi abbiamo Torino, che è una delle città più inquinate in Europa, Vicenza penso che sia al primo posto, Bergamo, Brescia. Allora, che futuro stiamo dando alle nuove generazioni? Se è vero, se questo è vero e ormai è scienza, cioè l'impatto ambientale condiziona pesantemente la salute delle persone, se noi le facciamo continuare a vivere in un ambiente sempre più inquinato, senza magari dargli quel supporto di difesa importante, o conoscere quale siano le varie, poi magari il dottor Alegrini potrà dire qualcosa proprio in merito, su quale che siano le costituzioni di queste persone, la salute delle loro cellule già prima del concepimento e quindi la capacità che queste persone possono avere, io parlo da un punto di vista tecnico, non medico, ma che possono avere di rispondere e di riparare i danni che sono causati dall'impatto ambientale. Ecco, tutti questi fattori, a mio avviso, sarebbe importante conoscerli per attivarsi a scopo preventivo, predittivo e soprattutto a supporto poi da un punto di vista medico, per i medici e da un punto di vista clinico. Che cos'è Cell Welbing? Io penso che Cell Welbing oggi sia una delle rivoluzioni nel campo della salute, del benessere e della prevenzione. Naturalmente poi la diagnosi la fa il medico, la cura è prettamente una pratica medica. Però Cell Welbing è un dispositivo, è un'azienda, ma soprattutto è un dispositivo rivoluzionario di una mappatura dei fattori che possono condizionare la salute delle persone. Voi pensate che in solo 12 minuti, questo dispositivo, solo 12 minuti, questo dispositivo grazie a un biomarker unico al mondo che è il bulbo del capello, non è il capello, è il bulbo del camello, quindi è questa antenna che è direttamente connessa con il mesenchime, il tessuto connettivo, quindi ha tutte le informazioni del micro e del macroambiente interno ed esterno e quindi è un OSB che è in grado di archiviare, registrare tutte quelle informazioni che sono proprio i danni da impatto ambientale. Quindi se una persona è intossicata da metalli pesanti, se è intossicata da idrocarburi, da sostanze chimiche, come fa a saperlo? Magari lo scoprirà quando è troppo tardi. Pensate alle radiazioni, il radon, pochissimi conoscono i danni da impatto del radon, eppure l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo definisce uno dei fattori più dannosi per la nostra salute perché viene dalla terra e si deposita e questo dà grossi danni a livello delle vie respiratorie e non solo. Quindi dovremmo conoscere tutti questi fattori come le varie carenze nutrizionali, come facciamo a sapere se abbiamo una carenza di vitamina C piuttosto di vitamina B o vitamina E oppure se il nostro sistema antiossidante non funziona in maniera adeguata per contrastare l'eccesso di radicali liberi? Oppure come facciamo a sapere se abbiamo un problema a livello gastrointestinale, cardiocircolatorio, il sistema immunitario? In questi periodi si parla molto di aumentare le difese del nostro sistema immunitario. Ecco, Cell World Bank ci permette in solo 12 minuti di avere degli indicatori che poi naturalmente il medico nutrizionista può utilizzare secondo la sua disciplina per migliorare quindi la dieta oppure fare prevenzione sull'impatto ambientale magari nei luoghi dove una persona vive, dorme, lavora. Quindi poter intervenire a scopo predittivo, preventivo e di supporto. È un test che si fa in solo 12 minuti grazie al bulbo del capello. Quindi grazie agli esiti di questo test si può integrare, cioè si può scegliere il percorso poi che si deve fare, logicamente sempre con l'ausilio e supporto e la guida di un professionista. Assolutamente sì. Però dettagliato perché si ha lo schema del nostro essere del nostro corpo, di come stiamo. Assolutamente questo ci dà una risposta che ci permette di avere tutte le informazioni in 36 pagine dove c'è una pagina riassuntiva che spiega proprio dove lavorare sui sistemi. È un po' come avere un cruscotto non della macchina ma sulla nostra salute, no? Quando tu hai la spia della benzina eccolo qua, vedete gli indicatori epigenetici tu hai la spia cosa si accende in questo momento? Beh, si sta accendendo il fatto rosso, no? Dove c'è l'impatto ambientale oppure il sistema gastrointestinale oppure la lipidomica della cellula gli acidi grassi essenziali oppure le carenze nutrizionali legate alle vitamine, minerali. Ora, pensate quanto anche l'impatto ambientale dei campi elettromagnetici che non si vedono ma come sapete ormai gli studi basta pensare all'Istituto Ramazzini quanto ha dimostrato che l'impatto ambientale dovuto ai CEM, ai campi elettromagnetici sta aumentando naturalmente le persone elettrosensibili. Noi siamo invasi da campi elettromagnetici. Eppure non ci rendiamo conto, no? Ormai è diventato la prolunga della nostra mano il cellulare e dice no ma io lo tengo in mano ma ce l'hai in mano è sempre il campo magnetico che hai contatto con la tua mano non è che la tua mano è lontano dal corpo non fa parte del tuo corpo oppure ci sono persone che ci dormono addirittura la notte pensate quanti danni possono fare al loro sistema anche del ritmo sonnoveglia oppure alterare il potenziale della membrana cellulare quindi invertire e quindi non assimilare in maniera ottimale vitamine, minerali oppure non fanno funzionare in maniera giusta i mitocondri c'è un danno notevole da campi elettromagnetici quindi da telefonini wifi ai nostri mitocondri e quindi aumentare lo stress ossidativo e nitrosativo e quindi aumento delle persone elettrosensibili come le sostanze chimiche possono aumentare le persone con sensibilità chimica multipla e quindi poi noi parliamo parleremo di fibromialgia parleremo di neurodegenerazione parleremo di infiammazione cronica parleremo proprio di queste cose che poi i medici devono assolutamente i medici devono porre rimedio ma come si fa? dobbiamo conoscere quello che sta danneggiando quella persona in maniera individuale personalizzata non si nasce tutti uguali basta pensare che abbiamo genitori diversi quindi come fai a nascere uguale quindi al di là del DNA e anche l'ambiente quindi la programmazione non solo l'educazione quanto è importante l'educazione? anche l'educazione è un'informazione epigenetica e lo stress è un problema epigenetico la gestione dello stress il reagire allo stress ecco questo test in solo 12 minuti sono oltre 250 centri in Italia si può fare un test per capire come fare vera prevenzione poi vi daremo tutte le informazioni le troverete nel corso anche il sito che è www.sdriveitalia.it ma tanto lo trovate sempre in sovraimpressione grazie dottor Terziani grazie a voi con piacere allora mi rivolgo al dottor Allegrini per approfondire un po' quella che è la parte dell'epigenetica e la genetica l'abbiamo compresa affrontata in questa prima parte la disfunzione mitocondriale e l'infiammazione silente sono invece diciamo una parte anche se importante da approfondire dottor Allegrini ma iniziamo da che tipo di approccio clinico integrato si deve avere e che cos'è soprattutto l'approccio clinico integrato perché molto spesso lo dimentichiamo nel nostro quotidiano è quello che io faccio da quasi 25 anni cioè una medicina che deve essere personalizzata come diceva prima il dottor Terziani deve essere umanizzata quindi deve mettere la persona al centro della salute mentre noi siamo abituati a un'idea di medicina patocentrica dove è la malattia il protagonista invece la visione antropocentrica che chiaramente richiama proprio anche delle scuole filosofiche antiche è una visione che porta necessariamente a un'idea integrata di medicina dove nella visione integrata non c'è in assoluto l'esclusione del farmaco molte volte mi chiedono dottore ma lei come fa a fare l'altra medicina no la medicina è una la medicina è la medicina individualizzata personalizzata e umanizzata che mette al centro la persona con la sua vita con la sua esistenza con quelli che sono tutti i fattori che ha fatto vedere prima una bella slide del dottor Terziani tutti i fattori che regolano la nostra salute cioè i fattori che vanno da dove vivo e quindi che cosa respiro che cosa mangio che cosa bevo quello che mi circonda a livello di campi elettromagnetici è poi tutti i vari fattori collegati anche all'esperienza sociale perché così richiamiamo anche quella che è legida principale del concetto di salute dell'OMS che dice che la salute è l'intersecarsi perfetto di tre fattori un fattore fisico e noi puntiamo solo a quello nella medicina attuale un fattore psicologico che è fondamentale perché oggi i studi di neurobiologia degli ultimi 30 anni hanno dimostrato che c'è un'interconnessione continua fra mente e corpo attraverso un'asse fondamentale che è l'asse intestino-cervello che è un'asse bidirezionale che comunque in relazione poi alla Costituzione questo è un capitolo interessantissimo che noi anche nelle nostre scuole di formazione svolgiamo e sviluppiamo perché prendiamo studi secolari cioè la medicina moderna appena 40 anni 50 anni vuole soppiantare tutto quello che si è fatto per secoli impossibile il medico deve ritornare a diventare un medico più della persona non deve essere il suo lavoro finalizzato a qualcosa che ha a che fare con l'economia il vero obiettivo deve essere quello di consolidare appunto lo strumento come lo strumento di cui parlavamo prima con Giorgio l'ass drive il test del bulbo ti permette proprio di approcciare a un modello sistemico perché ti costringe a studiare l'essere umano dal suo interno quindi noi dobbiamo ritornare a una medicina che parte dall'interno verso l'esterno mentre abbiamo diciamo focalizzato purtroppo le nostre cure solo sul discorso diciamo patocentrico quindi io ho la febbre e curo prendo l'antibiotico ho il dolore l'antifiammatorio non è così perché fondamentalmente ogni sistema ha un suo terreno e una sua reattività la teoria dell'acquario dove il pesciorino se tu lo lasci in un terreno inquinato e lo stiamo vedendo oggi con i cambiamenti climatici stiamo vedendo che cavolo abbiamo combinato al nostro pianeta perché c'è un binomio assolutamente indissolubile che è il binomio fra ambiente e uomo che deve essere riconsolidato se vogliamo veramente recuperare una salute perché la salute non è solo come dicevo prima assenza di problemi fisici ma noi pensiamo a quanto disordine io sono direttore sanitario di RSA le dico quanto disordine di tipo mentale che c'è oggi nella società oggi veramente c'è un affolamento di problematiche psico emotive che sta secondo me rasentando ormai il limite perché la gente è veramente in uno stato di dissociazione quindi noi oggi abbiamo un compito noi medici quello di riportare anche grazie a gente come il dottor Terziani che è un fautore della medicina del benessere della medicina predittiva preventiva noi dobbiamo fare un passo indietro dobbiamo capire che se veramente vogliamo aiutare non solo l'essere umano ma anche la nostra società dobbiamo ritornare a guardare l'essere umano con un modello di medicina prediventiva preventiva non basta più la prevenzione primaria la prevenzione primaria oggi abbiamo vissuto negli ultimi due anni il vaccino che è proprio l'esempio di prevenzione primaria io faccio un vaccino per evitare noi dobbiamo andare a monte non dobbiamo far arrivare il virus cioè dobbiamo fare in modo che il sistema deve praticamente essere capace da solo di combattere perché ogni essere umano ha queste capacità e quindi ancora di più l'obbligo a partire proprio dal piccolo dal piccolo dal sistema dal micro per andare verso il macro e il test S-Drive ce lo permette perché permette di andare ad analizzare una serie di fattori che appunto visionati in un modello sistemico possono garantire una sorta di indirizzo diagnostico e terapeutico al paziente questo è molto importante perché così andiamo a personalizzare a centralizzare la cura e non i protocolli Sa dottor Allegrini ascoltandola pensavo al claim della tradizione innovazione che tanto viene la tradizione medica quindi il tramando l'ascolto dell'essere dell'unicità del singolo con l'innovazione che in questo caso con questo test ti dà una griglia reale di quello che l'individuo di come l'individuo si presenta per potersi attivare immediatamente con le competenze chiaramente che anche il dottor Terziani diceva alle quali non ci si può sottrarre perché mio cugino il signor Google non sono assolutamente attendibili diciamo questo perché questa è una riflessione molto saggia cioè andare proprio ad affiancare un modello di visione umana così complesso alla tecnologia costringe il medico a studiare a ristudiare a riguardare anche ad ascoltare però dottore anche ad ascoltare certo anche ad ascoltare quello si è fondamentale nella visione quando io parlavo di visione proprio umanizzata alla prima parte dell'umanizzazione nel rapporto col paziente c'è l'ascolto c'è l'osservazione ci sono dei fattori io che vengo da una scuola di medici interna dove io studiavo semeliotica dove andare a cogliere da aspetti fisici semeologici dei segni che riguardano l'essere nella sua globalità e questa dotazione ce l'abbiamo tutti dobbiamo solamente ritornare ad amare un po' l'essere umano e ad amare meno quello che lui produce in termini anche diciamo di economicità perché dobbiamo entrare anche in questo settore che oggi la medicina purtroppo ha un po' sbandato ha un po' indirizzato male il vero obiettivo della visione medica che è quella della missione umana Dottore Allegrini il lancio è spontaneo in questi ultimi minuti di zona blu di questa puntata e passo al dottor Terziani dalla cellula all'anima nell'era epigenetica questo è il convegno che ci sarà l'11 di settembre a Bologna e mi piacerebbe vediamo anche la locandina grazie regia approfondirla in questi ultimi minuti questa è la mia passione da sempre divulgare informazione e prevenzione grazie a professionisti straordinari avete ascoltato il dottor Allegrini abbiamo un comitato scientifico naturalmente dove in questo evento divulgheremo innanzitutto l'evento dedicato al grande Giuseppe Genovesi che è un medico straordinario che curava i pazienti con sensibilità chimica multipla fibromialgia elettrosensibilità che è stato naturalmente molto messo da parte perché sicuramente faceva bene il suo lavoro e lo vogliamo dedicare anche il grande Davide Antoniella che è un mio carissimo amico un medico anche lui bravissimo insegnera un perfezionista dell'allenamento di squadre a livello proprio importante squadre di calcio lui si occupava proprio dell'allenamento metabolico del cardiaco proprio soprattutto degli atleti e quindi lo dedichiamo Davide è scomparso proprio due settimane fa e il dottor Genovesi invece tre anni fa e questo convegno vuole parlare proprio di loro di quello in cui loro credevano di come fare vera prevenzione di come supportare i pazienti con medici e professionisti importanti parleremo di oncologia integrata parleremo di riprogrammazione delle cellule da un punto di vista epigenetico dei fattori di riprogrammazione cellulare parleremo naturalmente anche della corretta ossigenazione dell'ossigeno per la vita e ne parleremo anche nella prossima puntata ecco questo dalla cellula all'anima proprio perché noi siamo fatti di cellule ma quando nasciamo abbiamo quel soffio straordinario della vita che ci permette di emozionarci e noi non dobbiamo scordare quanto sia fondamentale l'emozione che proviamo nel guardare negli occhi un altro essere umano ci stiamo dimenticando chi siamo da dove veniamo e cosa possiamo fare per le persone per noi stessi ma prima di tutto bisogna essere di esempio perché senza l'esempio non facciamo nulla e noi qui in zona blu diciamo spessissimo l'esempio è la prima forma di insegnamento esordisco di solito apro le puntate con partendo un po' dalla storia degli imprenditori che che vengono a trovarmi e invece chiudo questa puntata con una sua citazione dottor Terziani lei afferma i nostri sogni ci ispirano a pensare agire percepire e divenire esattamente il tipo di persona che dobbiamo essere per poterli realizzare il mio sogno da sempre quello di aiutare il prossimo a vivere meglio e a lungo da dove inizia questa sua avventura imprenditoriale dove mette lei e anche gli altri esseri viventi al centro dai valori dai valori che ha seminato mia madre e ha seminato mio padre e questi sono fondamentali questa epigenetica del rispetto di se stessi e degli altri e dalla voglia straordinaria di cambiare la mia vita e questo è nato da un incidente stradale nel 1997 io facevo tutt'altro ero un perito tecnologico prestato alla marina militare ho fatto due guerre due volte il golfo persico ho girato il mondo 165 mila miglia nel 1997 faccio un incidente mortale e lì dico se uscirò di qua con le mie gambe voglio veramente cambiare la vita e aiutare gli altri e così fu dal niente in una casa di 40 metri quadri senza acqua calda e riscaldamento ho comprato un fax un computer una stampante e ho iniziato a lavorare sui miei sogni naturalmente per realizzare i miei sogni dovevo lasciare la marina militare non era possibile e il primo sogno che scrissi nel mio elenco che erano oltre 110 sogni scrissi in un corso di formazione scrissi voglio vedere mia madre felice era il primo posto secondo uscire dalla marina militare quindi sono nato dal niente e continuo a essere niente perché quello che bisogna assolutamente fare è mettersi al servizio degli altri e incominciare a pensare di essere utili a questa umanità e poi dopo naturalmente tutto quello che l'universo ci permette di avere è un dono meraviglioso e quindi tutte le mattine che noi ci alziamo dobbiamo dire solamente grazie io vi ringrazio vi ringrazio per questo primo incontro come ha anticipato lei proprio all'inizio della puntata ne avremo un secondo con grande piacere e vi ringrazio perché mi sono commossa particolarmente commossa è anche un po' arrabbiata mentre vi ascoltavo perché mi domando come mai certi messaggi concretamente non arrivino nella loro totalità ma come voi sapete io ringrazio sempre i colleghi di Bio Blu ci impegniamo molto ci impegniamo molto qui si impegnano molto più di me perché io ho solo il piacere di fare da tramite mentre c'è chi fa anche inchiesta per sensibilizzare anche verso questi aspetti quindi noi di Zona Blu vi aspettiamo per la prossima puntata ringrazio il dottor Giorgio Terziani Visit Professor in Discipline del Benessere St. George School Brescia e insomma per tutto quello che ha fatto e anche il dottor Allegrini Bartolomeo per essere arrivato fin qua a trovarci e per aver condiviso con noi soprattutto il suo percorso formativo alla prossima puntata di Zona Blu Grazie a tutti Grazie a tutti